eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare il tg code iscrivetevi se siete nuovi dai ragazzi arriviamo sarebbe un sogno arrivare a 88 mila iscritti entro la fine dell'anno quindi iscrivetevi condividete il video con tutti i vostri amici salvatevi il primo link in descrizione che è la mia collaborazione con Enebba se dovete comprarvi videogiochi nuovi videogiochi del passato gift card troverete anche offerte su mv3 se lo volete recuperare appunto prima di natale e poi vi aspetto come sempre tutti i giorni alle 14 in live rispondo a tutte le vostre domande i vostri problemi e i dubbi a tutte le varie situazioni strane che ci sono su code per aiutarvi si giochi insieme quindi vi aspetto alle 14 piattaforma viola ma partiamo perché oggi è mercoledì e come ogni mercoledì c'è il cambio di playlist per quanto riguarda warzone c'è il silenzio più assoluto quindi ormai fra un po ragazzi si attende soltanto il 6 dicembre il cambio di mappa per le nuove playlist perché pure su warzone non sono usciti più fix non sono usciti più patch non è uscito più niente veramente abbandonato a livello di novità di playlist e quant'altro da quando uscito mv3 comunque questa sera la sledgehammer games ha confermato che arriverà i rise 24 7 e poi rustman come sapete rustman è la l'abbinamento di due mappe 24 7 quindi avremo rust più shipment a rotazione 24 7 già voi mi richiederete nuovamente ragazzi ma quale sarà shipment shipment di mv2 dalle prime informazioni se ci saranno cambiamenti o quant'altro a riguardo vi terrò aggiornati ma al momento sembra confermato che avremo la versione di mv2 quindi da questa sera ragazzi vedremo veramente bestemmie volare come non mai perché tra scudi pompa e coltelli stasera ne vedremo delle belle ma parliamo un attimo dell'evento natalizio perché in queste ore semtexlx ha riportato nuove informazioni in anteprima come sapete già vi ho riportato ci sarà l'evento anche the boys versus the seven e vi parlerò nei prossimi giorni anche delle sfide in anteprima ecco perché vi dico sempre iscrivetevi e lasciate un bel mi piace per supportare il video ma soprattutto per non perdervi le prossime novità durante l'evento codmas ritornerà all'esecuzione degli elfi che abbiamo visto anche con quell'elfo ragazzi che era chiamato stato chiamato proprio bobby kotic e il treno di urzikistan verrà ridecorato con temi natalizi ma ci sarà qualche altra novità che sicuramente avrò e saprò prima dell'evento con che ha confermato che ci sarà un evento stagionale di natale 2023 che includerà le skin fessive personalizzate per il treno di warzone ci sarà un evento anno del drago per quanto riguarda il capitano 2023 e ci sarà anche l'evento stagionale come sempre per il giorno di san patrizio invece per rispondere a una delle domande che mi avete fatto anche nelle ultime due live parliamo un attimo dell'edizione cassaforte ve ne avevo parlato anche nei giorni passati ma ridosso del 6 poi tornerò spesso sull'argomento per tutti coloro che hanno comprato l'edizione cassaforte avrete la stagione 1 del black cell inclusa questa però si sblocca a partire dal 6 di dicembre avete il battle pass e avrete il battle pass della stagione 1 i settori del black cell 20 salti di livello e ulteriori 30 salti di livello per questa edizione che significa che avrete 1100 call of duty point avrete 50 salti a livello quindi vuol dire che appena inizia la stagione 1 e andate sul battle pass partite subito a livello 50 riscattando questi 50 livelli se invece siete su play session potrete riscattarne la bellezza di 55 quindi praticamente vi ritroverete più della metà del battle pass black cell già livellato ma questo a partire dal 6 invece parliamo un attimo di una cosa molto curiosa perché come sapete il 6 dicembre inizia la prima stagione codeware forum ha trovato dentro i file di gioco di mv3 la conferma che al momento la sledgehammer games starebbe lavorando su 6 stagioni ecco qui le stringhe trovate proprio dentro i file di gioco che confermerebbero al momento anche 6 stagioni per il suo titolo parliamo invece di patch perché ieri sera la sledgehammer games ha rilasciato un fix di un problema che vi avevo riportato almeno una settimana nella fase non ricordo male per quanto riguarda il gear e od cioè il perk che vi permette di come si dice di resistere più che altro di mitigare correttamente i danni da esplosivo all'interno delle partite perché veramente come si muore su questo gioco con le granate è veramente una cosa pazzesca quindi adesso miticherà correttamente i danni da esplosivo se lo volete utilizzare adesso è stato finalmente fixato inoltre la sledgehammer games ha anche implementato una nuova correzione al titolo che significa per quanto riguarda il battle pass i punti esperienza del battle pass sono stati concessi retroattivamente a partire dal 28 di novembre come avevo già riportato nei giorni passati perché stanno facendo a scaglioni quindi i gettoni xp doppi punti del battle pass utilizzati dalla finestra di lancio e quella della correzione verranno invece presto rimborsati perché tanti non si erano ritrovati determinate cose o non si erano trovati il battle pass acquistato l'hanno ricomprato un'altra volta e quindi hanno speso due volte la stessa cifra di code point e quindi stanno dando diversi gettoni call of duty point a coloro che hanno avuto problemi nel livellamento a partire dal 28 a partire dal dall'uscita del gioco di mv3 ma li stanno facendo retroattivamente dal 28 perché è iniziata al 28 l'attività degli xp del battle pass fatemi sapere però già ieri qualche utente mi ha segnalato e mi ha scritto che si è ritrovato dei gettoni all'interno del battle pass salta livello per sbloccare questa cosa vi faccio vedere invece questa breve clip ragazzi che è stata rilasciata ieri sera dalla treyarch che conferma tre delle novità attese per la stagione 1 zombies parliamo di una nuova esperienza di fine gioco il dark era rips ci sarà la nuova arma il vr 11 e poi nuovi schemi di acquisizione non è finita qui perché vi faccio vedere due nuovi operatori o meglio operatrici che stanno per arrivare non è detto già in questa stagione 1 ma nelle prossime season perché sono state trovate all'interno dei file di gioco delle stringhe che confermano l'arrivo di milena romanova e soprattutto di kate loswell direttamente dalla campagna e dai personaggi della campagna di modern warfare 3 indizi infatti sarebbero stati trovati da alcuni dataminer all'interno dei file di gioco di mv3 ma torneremo sull'argomento nei prossimi giorni sempre in merito a contenuti in anteprima oggi veramente diverse novità interessanti per le prossime season come sapete già vi ho riportato in questi giorni che tornerà o meglio arriverà una mappa ambientata in grecia come abbiamo già visto ad esempio su advanced warfare quindi su mv3 avremo una mappa del multiplayer della stagione 1 ambientata in grecia trovate il video basta cercare season 1 sul mio canale per sapere e per vedere in anteprima le nuove mappe del multiplayer sono state trovate dal boberto queste stringhe che confermano e ci svelano in anteprima altre mappe multiplayer in arrivo una sembrerebbe appunto anche ambientata a dubai e una a venese infatti abbiamo arcade dubai fight club greece quindi confermata la grecia cinetic che sia sforce trident e venice al momento ragazzi queste sono quelle trovate all'interno dei file di gioco ma ovviamente poi ne arriveranno tante altre la 3 arc anche lei ieri ha confermato questa notizia relativa ai gettoni xp che stanno dando e stanno rimborzando retrattivamente per coloro che hanno avuto problemi nel livellamento e che non gli hanno dato appunto ricompense e quindi questa notizia riportata ieri sera dalla jammer games era stata portata anche qualche minuto prima anche dalla 3 arc fatemi sapere andate a verificare nel battle pass se avete appunto dei gettoni in più se avevate appunto avuto problemi nel livellamento e con questo chiudiamo il nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty un bel mi piace mi raccomando iscrivetevi se siete nuovi vi aspetto alle 14 in live e noi ci vediamo invece domani per un nuovo video Grazie a tutti